Per me è stato un anno un po' particolare, non ho mai avuto due fortuni nella stessa stagione così lunghi che non mi hanno permesso comunque di giocare con continuità, però adesso questo alle spalle sono contento oggi di essere riuscito a tornare in gruppo con un partito ufficiale e da qui alla fine spero di potermi allenare con continuità e di dare una mano a tutta la squadra. Sei giocatore esperto della squadra, adesso siamo in finale, cosa ci aspetti? Dobbiamo vincere? Le finali si sono fatte per essere vinte, quindi siamo contenti di aver ragionato questo primo metà obiettivo perché comunque non abbiamo ancora vinto e ci sono ancora due partiti da giocare. Siamo contenti perché fin da subito abbiamo dato un'importanza anche alla Coppa Italia anche perché se andiamo a vedere il nostro cammino e i giocatori che hanno giocato alla Coppa Italia come si è detto più volte questa squadra non ha 11 titolari ma gente comunque può giocare sia in campionato titolare che in Coppa Italia. È un risultato di tutti e adesso aspettiamo di vedere contro chi giochiamo e poi di onorare meglio questa finale conquistata. Grazie. Grazie. Grazie.